Il futuro di Victor Osiman nel mercato del Napoli è qualcosa che ha tenuto viva l'attenzione di tifosi e top management. Negli ultimi mesi sono circolate diverse voci secondo cui il giocatore potrebbe essere trasferito in Inghilterra, con il Newcastle che è il club più interessato ad acquistarlo. A fare chiarezza sull'attuale situazione è intervenuto in un'intervista al Corriere dello Sport la gente dell'atleta, Roberto Calenda, andiamo a dare un'occhiata. Benvenuti ad un'altra notizia dal Napoli, per non perdervi le novità, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Secondo Calenda, Osiman è felice e perfettamente integrato con la squadra e la città. All'obiettivo di vincere con il Napoli e realizzare i sogni dei tifosi, non c'è altro. Calenda ha sottolineato che il giocatore è un talento naturale, con una fisica impressionante, e che la chiave del suo successo è la continuità. Osiman è stato frenato dagli infortuni in passato, ma ora è pronto a esprimere al massimo il suo potenziale. Inoltre, Calenda ha affermato che il giocatore sta lavorando bene con l'allenatore e la squadra, e che l'intesa e l'armonia tra di loro cresce ogni giorno. Allora tifoso napoletano, qual è la tua opinione su questo argomento? Lascia sotto nei commenti. Per non perdere le prossime news, iscriviti qui sul canale e lascia un like.